La grande musica negli itinerari turistico-culturali della Valle delle Abbazie. Proposta dall'Unione dei Comuni Colline del Medio Vomano in collaborazione con Itaca, Associazione per lo Sviluppo Locale, Associazione Culturale Luzmec, Cenacolo della Musica, International School ed itinerario turistico-religioso Valle delle Abbazie, con la direzione artistica del maestro Carlo Michini, si terrà dal 21 agosto al 3 ottobre la stagione di musica classica, i concerti delle Abbazie. Con l'organizzazione di questi eventi avremo modo di aprirci più ai tanti che aspettiamo ed invitiamo nel nostro territorio del Medio Vomano per presentare una bellissima offerta artistica, quella musicale, quella dell'arte, abbinata ad un corollario di storia e di territorio, abbinato al cibo, al vino, alle tante cose buone che ci sono. È un progetto nuovo, è un progetto importante di giovani musicisti, concertisti, quindi non solo allievi, anzi allievi di masterclass di alta formazione in collaborazione con il Cenacolo della Musica, ma anche musicisti attivi nel mondo lavorativo, nel mondo professionale. Iniziano il 21 agosto a Cellino per toccare tutte le maggiori Abbazie delle colline del Medio Vomano, quindi Penna, Sant'Andrea, Basciano, Monte Gualtieri, Ronzano, Castellalto, Propezano, Guardia Vomano, Canzano. Il concerto finale sarà a Canzano con la speciale partecipazione della Giovana Orchestra d'Abruzzo al 29 settembre e 3 ottobre. Le Abbazie è un progetto che racchiude un itinerario turistico religioso che prende proprio le mosse dal territorio delle Abbazie presenti nel territorio. E' importante questa manifestazione perché ci aiuta a perseguire quelle che sono le finalità del progetto, cioè aiutarci a rendere più accessibili e più fruibili questi beni monumentali che spesso sono sconosciuti anche e soprattutto nel nostro territorio.